Intervento a ribasso ma con i costi di progettazione che lievitano del 50% rispetto all'importo iniziale. L'ennesimo fondo del capogruppo in consiglio comunale di appello per l'ECCO, Corrado Valsecchi, arriva con una nota al vetriolo a pochi giorni dalla presentazione del progetto definitivo del nuovo lungolago cittadino. A realizzarlo allo studio Paola Viganovi, incitrice del concorso di idee Waterfront. Rispetto all'idea originale, sono scomparsi la piscina a sfioro e i gradoni a lago, troppo onerosi al momento per le casse del comune, che oltre ai fondi del PNRR e di Regione Lombardia sborserà di tasca propria oltre 2 milioni di euro. Valsecchi, chiesto l'accesso agli atti, fa le pulce all'amministrazione. Nella speranza che nessun partecipante al concorso faccia causa o ricorso contro il comune, una manutenzione straordinaria che sistemi la pavimentazione e gli arredi del lungolago è la benvenuta, scrive l'ex assessore ai lavori pubblici. Quello che mi ha colpito però è la cifra rivisitata degli oneri lordi della progettazione. Nell'agosto del 2021 il compianto architetto Cereda firmava una determina dirigenziale per un importo di 606.359,52 euro per la progettazione completa dei lavori di riqualificazione del lungolago come da progetto originario. Ora scopro che c'è stata una rimodulazione in aumento a favore dell'affidamento di ben 323.539,95 euro, più del 50% del costo progettuale convenuto nel 2021 e che prevedeva sicuramente un maggior impegno professionale per dar vita ad una vera riqualificazione del nostro lungolago e non a una manutenzione straordinaria. Poi l'affondo. Ma se quel progetto non si può più realizzare, se la Giunta ha deciso di fare altro che ha un impatto molto più modesto e sicuramente meno impegnativo, vista l'eliminazione di aspetti strutturali ed impiantistici strettamente connessi alla piscina a sfioro, perché dobbiamo spendere 930.000 euro anziché 606.000 che erano onnicomprensivi di un lavoro sicuramente più faticoso per lo studio Viganò. Sono domande che faccio pubblicamente, perché il Consiglio Comunale si terrà solo a fine mese, dopo due mesi di vacanza, per mancanza di ordine del giorno. Chiedo solo, conclude Varsecchi, di fare chiarezza, perché anche su questa vicenda, purtroppo, i conti non tornano.